Musica Musica Amici di AttiSport24 Appassionati di pallanuoto Benvenuti ad una nuova puntata di Waterpolo Preview Si chiude con un amaro secondo posto La Champions League della Prorecco In una finalissima molto combattuta E segnata nel finale dall'espulsione per brutalità di Gergo Zalanchi I Liguri lottano con il coltello tra i denti Ma cedono di misura contro il Ferencvaros Del grande ex Mandic e del due italiano di Somma da Monte Abdicano così dal trono continentale dopo tre anni La truppa di Sandro Sucno esce però dall'acqua a testa altissima La certezza è quella che all'inizio della prossima annata I bianco celesti saranno pronti a tornare in acqua Per continuare la lotta e provare a riprendersi Ciò che per mentalità appartiene alla Prorecco La vittoria Il detenere i titoli Essere la prima indiscussa Sia in ambito nazionale che internazionale Ma vogliamo incentrare la puntata odierna Su una delle rivelazioni di quest'annata Un club che ha raggiunto nel 2023-2024 Vette fin qui mai toccate Quinto posto in Coppa Italia Meritatissimo quinto posto in campionato E conseguente storica prima qualificazione alle Coppe Europee Andiamo a rivivere l'emozionante cammino Dell'Ira in Genova Quinto Con il vicepresidente Ligure Fabrizio Brondi Ciao Andrea Grazie a te per dare voce a giocatori e dirigenti del nostro amato sport Buongiorno a tutti Fabrizio si chiude con un risultato complessivo straordinario L'annata dell'Ira in Genova Quinto Storico quinto posto in Coppa Italia Straordinaria quinta piazza in campionato E ancora più storica prima qualificazione europea Con la partecipazione garantita alla prossima edizione dell'N Euro Cup Sembra retorica ma è doverosa Che bilancio tracciamo di questa stagione? Il bilancio non può che essere positivo Però in un bilancio positivo c'è un'emozione che è quella di una stagione Che abbiamo giocato in crescendo Dove lasciami passare il ringraziamento ulteriore E va fatto ai protagonisti di questa stagione qua Quindi a Luca e i suoi ragazzi Che in questa escalation da ottobre quando è iniziato il campionato Un campionato un po' bizzarro, un po' strano Per via della formula Con un anno olimpico Farcito di europei e mondiali Un'interruzione di due mesi Ci ha visto partire come un diesel Piano piano Lavorare Prendere delle facciate Nel periodo autunnale Invernale Non da poco Secondo me Perché abbiamo avuto degli alti e dei bassi Abbiamo fatto qualche discreta prestazione O anche buona prestazione nella prima fase Legata anche invece a dei passi falsi Non indifferenti Magari non tanto nel risultato Ma nella maniera in cui siamo venuti fuori Ma anche sempre da una sconfitta Sulla carta preventivata Mi viene in mente ad esempio Trieste Dove abbiamo partito veramente tanto il loro gioco E siamo usciti con un risultato netto e pesante E poi però da lì Secondo me i ragazzi e Luca sono stati veramente bravi A buttarsi sotto Nel momento in cui siamo rimasti Nel girone della retrocessione Arrivando pure con molto equilibrio In una zona di difficoltà Però con Bologna che va di sopra E noi e Posillipo che ne paghiamo le conseguenze Due mesi difficili di lavoro intenso A testa bassa E senza tante parole Un avvio che non ti nego Del girone del pur retrocessione Anche quello non facile Perché il primo tempo di quinto Posillipo A fine febbraio È finito 4-0 5-0 per il Posillipo Una partita poi riacciuffata sull'8-8 E da lì Un'escalation importante Che secondo me ha proprio Ha avuto un cambio di marcia Nel momento in cui i ragazzi Con Luca Si sono chiusi In loro stessi Proprio rimanendo isolati Da quelli che erano le voci O le influenze che potevano essere anche Non buone Del contorno Sono arrivati a questo esploat qua Della vittoria Della semifinale Del playoff Che poi a quel punto C'eravamo guadagnati Giocando già bene Vincendo partite in trasferta In casa Le partite col Palermo Poi abbiamo visto tutti Come sono andate Sono stato veramente Un'emozione unica E quello è proprio frutto Secondo me Della tranquillità Che vuoi anche Il peso Dell'obiettivi Che ci eravamo levati Da addosso Perché partire a settembre Con l'ambizione O l'obiettivo Di entrare nelle prime sei Per fare la Coppa Era un sogno Ma non era una cosa scontata C'erano squadre più attrezzate di noi Poi Pian piano questo Secondo me è venuto fuori Proprio questo valore aggiunto È stato Avere una squadra Che lavorava in silenzio Farcita di campioni Va bene Perché I nostri uomini di esperienza Sono stati uomini Che proprio in quelle gare lì Si sono venuti fuori Sono visti Con un mix di giovani Che ha cresciuto tanto E ha dato supporto A tutto l'impianto E questa è la cosa positiva E la cosa che ci fa andare avanti Pensando Positivo L'Ira in Genova Quinto È una società Che non fa mai Il passo più lungo Della gamba Costruisce con Serietà Con progettualità In questo contesto Ti chiedo Che peso specifico assume Nel progetto quinto La qualificazione Alla prossima Euro Cup È un peso specifico importante Perché non ci vogliamo Tirare indietro E fare Né brutta figura Né Prenderla come Vabbè A un di più Facciamo quello che possiamo Cercheremo di onorare Al meglio Il L'impegno Perché Abbiamo fatto delle scelte Importanti Quest'anno Anche come cambio Diciamo Generazionale Dal punto di vista Del roster Che prenderà il via Poi A metà agosto Per la nuova stagione Speriamo Di riuscire a starci Il più possibile Quello Indubbiamente Anche perché è un motivo Di crescita Per tutti noi Poter vivere Non solo assaggiare Ma vivere Più tempo possibile Un evento E una stagione Come questa Poi Quello che succederà L'importante E essere focalizzati Su fare bene Il campionato Di nuovo Sarà difficilissimo Ripetere La stagione Che abbiamo compiuto Quest'anno Ma Sicuramente Ci riproveremo Una caratteristica Che mi sembra Di Poter sottolineare Del quinto Degli ultimi Vent'anni Da quando Marco Paganuzzi Iniziò Questo processo Qua Di crescita Eravamo ancora Dei giocatori Lasciami Ricordare Vent'anni fa Quando Sembrava di fare Un passo più lungo Della gamba Più di vent'anni fa Perché erano gli anni Duemila Fare un passo più lungo Della gamba E portare il quinto Dalla serie B Alla serie A2 C'era stato dato L'ok Dalla società Per poter fare Questo passo qua L'abbiamo affrontato Siamo cresciuti Abbiamo fatto I primi anni A difendere La categoria Con le unghie Poi Marco È diventato Allenatore Ha iniziato A vendere in grande Abbiamo fatto Un paio di anni Di assestamento Finendo sempre Nei playoff Poi siamo saliti Un passo falso Diciamo Perché è venuto Secondo me Da un punto di vista Della programmazione Non buono La prima salita In serie A Ne abbiamo pagato Le conseguenze Siamo retrocessi Ma da lì Marco Con Giorgio Il presidente Attuale Hanno avuto La forza Il coraggio Spinti proprio da lui Per andare avanti E riprovarci subito Da quel momento in avanti Ci siamo stabilizzati In serie A Abbiamo tenuto Al primo anno Una salvezza Sofferta Alla penultima giornata Ricordo A Catania Con Gabriele In panchina Perché Marco In quell'anno lì Aveva iniziato A avere dei problemi Di salute Importanti Che poi purtroppo Ce li ha portato via Ma da lì È nato un po' Tutto E questa cosa qua Secondo me È una cosa Che noi dobbiamo Portarci dietro Il fatto di Il fatto di adattarci Per il proprio Per il proprio futuro E altre società Per averci fatto compagnia Siamo così giunti Al termine di questa puntata Io non posso fare altro che ringraziare gli ospiti intervenuti E darvi appuntamento per la prossima Grazie a tutti